Adesso dimostrerò a mio marito che anche io so cucinare bene, so fare bene la colazione, buona quanto l'ha fatta lui. Mamma, volevo chiederti, sai, nel senso che non posso andare al parco perché l'ultima volta con Emma non è andata benissimo, insomma rischiavamo di mandarla in prigione, però pensavo mi piacerebbe fare il papà per un giorno, secondo te cosa dici? Ah, vuoi fare il papà per un giorno? Ah, certo Julian, forza, ma mi raccomando devi farlo bene, è un gran duro lavoro. Ok mamma, perfetto, grazie, mi diverterò un sacco. Ok, la mamma mi ha dato il permesso di essere papà, sono papà per un giorno. Vado subito a Emma. Emma, cosa stai facendo, piccola? Stai giocando? Ma Julian, perché mi parli con questa voce strana? Perché io sono tuo padre, oggi sono papà per un giorno e tu mi devi rispettare come rispetti tuo padre, capito? Quindi farai tutto quello che ti chiedo, per esempio ora riordina la mia stanza, forza, è un po' in disordine. Su, dai, veloce, non ci mettere tanto tempo, grazie. Ma, ma Julian, cioè, se tu fai papà per un giorno, anch'io voglio fare la mamma per un giorno, non è giusto? E poi non riordino la tua stanza, ma cosa vuol dire? Oh, ma penso a te, non è giusto. Oh, mannaggia, mi sono dimenticato il mio tablet, devo andare su... Emma, Emma, portami il tablet, grazie, vieni giù, forza. Vieni giù, ti devo comunicare una cosa. Emma, ti ho già chiamato da due secondi, forza, vieni giù. Cosa c'è papà? Emma, ho dimenticato il mio tablet, me lo porteresti per favore? Grazie. Questa cosa inizia a scocciarmi, non è possibile, se lo prende da solo il tablet, papà non fa così. Ecco il tablet, non ho portato il caricabatterie, però. Oh, fa lo stesso, al massimo lo andrai a prendere la prossima volta, quando torni giù me lo darai. Molto semplice. Oh, no! Riordinare la stanza di Julian è un casino, ho sempre le cose per fuori. E poi, certe cose sono troppo pesanti, io non riesco a metterle via, tipo questa mazza da baseball. Emma, non hai ancora riordinato la mia stanza, questa cosa è inaccettabile. Ti ho chiesto una cosa da fare e non l'hai fatta, ti pare? Senti, Julian, non è più divertente questa cosa. Papà non fa così. Riordinala tu. No, io ora devo andare al bagno, scusami, non ho tempo. Fare il papà è troppo divertente, non fai niente tutto il giorno. Dai ordini, fanno le cose che dici. Che meraviglia. Oh, sono stanchissima. Emma, forza vieni qua, ho bisogno. Oh, no! Ma cosa c'è ancora? Ho bisogno della carta igienica, non riesco a prenderla. Le potresti passare? Ma è lì, sei cieco, è di fianco a te la carta igienica. Non l'avevo visto, perfetto, benissimo, ora puoi sparire, ciao, fuori. Non mi piace questa cosa, non è giusta. Uffa, papà non fa così, non si comporta così. Uffa, bene, adesso ho riordinato tutto, non mi deve più chiedere niente. Allora? Ho riordinato tutto, hai visto? Riordinare? Ti sembra riordinare questo? E dov'è il mio skateboard? L'hai lucidato? Non hai lucidato il mio skateboard? Emma, queste cose non si fanno. Se ti chiedo di riordinare la mia camera lo fai bene. Forza, prendi lo skateboard e lucidalo. Senza fare storie. Oggi ne hai già fatte abbastanza, direi. No, questo non lo posso fare, ma non sono una schiava, papà non fa così. Anzi, papà non lo farebbe mai. Papà è molto più buono, non mi chiede di fare le cose, lui le fa. Ah, bene, è pronto, praticamente posso chiamare. Tesoro, ma cosa stai facendo? Sto lucidando lo skateboard di Yuya. Mi ha chiesto un sacco di cose, perché deve fare il papà riordinare la sua camera, portargli la carta igienica, lucidare lo skateboard, portargli il tablet, tutto. Non ci posso credere, stai scherzando, Yulian Vogel. Adesso mi metto qua. Emma, Emma, ho bisogno. No, Emma, non sono tua madre. Oh, mamma, cosa c'è? Yulian, non puoi chiedere a tua sorella di fare tutte quelle cose, perché il papà non lo chiederebbe mai. Il papà le fa le cose. Sai che fare il papà non è, non equivale a dire non fare nulla tutto il giorno, ha delle responsabilità e soprattutto non chiederebbe mai ai suoi figli di fare cose al posto suo. Oh, ma, Emma, non dovevi dirlo alla mamma. Oh, che stress. Sai cosa? Per imparare la lezione, Emma farà la mamma per un giorno e ti dirà tante cose da fare, molte cose da fare. Oh, sì, finalmente è il mio turno. Yulian non la passerà liscia proprio per niente. Imparerà cosa vuol dire essere uno schiavetto.